Il tuo lunedì è stressante. Pesante. Vero? Allora, ci pensa, la fornace tv rilassarti. Una selezione dei migliori documentari, ma anche veri e propri docufilm, fatti per farti ragionare, ma allo stesso tempo, farti staccare dalla monotonia quotidiana. Almeno per una sera. Lunedì docufilm. Lunedì, ore 21. Solo su, la fornace tv. La fornace tv, sforniamo grandi, momenti di televisione.